E' sempre più concreta la prospettiva dell'apertura di nuove discariche in Campania. Le aree di soccaggio per il materiale vagliato dovrebbero essere ricavate in tre cave dismesse da individuare sul territorio regionale. La nuova emergenza rifiuti è stata preannunciata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Per evitarle il Governatore avrebbe pensato alle cave. Soluzione per scongiurare l'impatto che potrebbe avere con i lavori di manutenzione su una delle due linee del termovalizzatore di Acerra. E' per la difficoltà di conferire fuori regione il materiale che non potrà essere lavorato. La preoccupazione infatti è che se si blocca per sei mesi l'impianto di Acerra sarà vera e concreta emergenza. Il Presidente infatti nel piano dei rifiuti della Regione Campania ha scelto di non realizzare altri termovalizzatori. Nel frattempo il Presidente rilancia sulla necessità di nuovi impianti di compostaggio e sul potenziamento della differenziata.